Più di mille sbarchi nelle ultime 24 ore in Sicilia, ancora una volta la Lega Nord punta il dito contro il Ministro Alfano, perché? Perché il Ministro Alfano è colluso con tutti coloro che stanno favorendo questi sbarchi, perché questo governo sta lavorando insieme ai trafficanti di esseri umani, perché questo governo ha deciso con un atto unilaterale, nonostante l'operazione Triton, di mandare la nostra capitaneria di porto in acque territoriali libiche, con condizioni inadeguate, ad andare a prendere direttamente in Libia i clandestini, perché questo governo non sa gestire i CIE, perché questo governo ha firmato, e ancora erano presenti il Ministro Alfano e l'allora Presidente del Consiglio Letta, il trattato di Dublino 3, che prevede che i clandestini che vengono identificati e poi decidono di andare in altri stati europei, gli altri stati europei si sentono in diritto di poterceli rimandare indietro. Quindi ancora una volta la balla che sta raccontando la sinistra, compreso il nuovo centrodestra che è a sinistra, che i clandestini vengono in Italia per andare in altri stati europei è una balla, perché sappiamo benissimo tutti che vengono rimandati indietro. E quindi ancora una volta noi chiediamo ad Alfano di farsi da parte, chiediamo al governo Renzi di farsi da parte e permettere agli italiani di poter andare a votare e votare qualcuno che li possa tutelare.